Se dovessi dare un titolo a questa puntata del podcast direi Amazon rischia grosso, FTC pronta a un'enorme causa antitrust. Benvenuti, oggi discuterò con voi le recenti notizie riguardanti Amazon e la Federal Trade Commission FTC degli Stati Uniti. Secondo le notizie provenienti dai vari media, la FTC sta preparando una causa significativa contro Amazon che potrebbe avere conseguenze gravi e incerte per il gigante dell'e-commerce. Quindi vediamo un po', la FTC guidata da Lina Khan accusa Amazon di far morire i commercianti che utilizzano il suo sistema di logistica penalizzando coloro che utilizzano servizi esterni. Quest'indagine è in corso da diversi mesi e sembra che la FTC sia quasi pronta a formalizzare l'accusa. Lina Khan ha una lunga storia di sfide alle big tech come evidenziato dal suo trattato nel 2017 Amazon Antitrust Paradox in cui propone nuovi strumenti per valutare i danni causati da comportamenti anticoncorrenziali delle grandi aziende. Da quando è diventata presidente della FTC, l'agenzia federale ha intensificato i controlli sul mercato per garantirne il corretto funzionamento. Il problema principale riguarda i venditori di terze parti nel marketplace di Amazon. Ogni vendita comporta una commissione che i commercianti pagano ad Amazon che guadagna offrendo loro ulteriori servizi nella logistica e nella pubblicità. L'AFTC quindi accusa Amazon di svantaggiare coloro che non utilizzano questi servizi accessori. Quindi quali sono i punti di discussione? Bene, l'antitrust e le big tech ad esempio. Quindi Lina Khan ha una lunga storia di sfide alle big tech. Come influenzerà la sua presidenza dell'AFTC, il panorama delle big tech in futuro e soprattutto in America perché bene o male sono tutte lì? Secondo punto, il ruolo del marketplace di Amazon. L'e-commerce di Amazon è un elemento chiave nella strategia di business. Come potrebbe cambiare se la FTC dovesse vincere la causa? E come ultimo punto, le implicazioni per i venditori di terze parti che sono fondamentali per l'ecosistema di Amazon. Quindi quali potrebbero essere le implicazioni per loro se Amazon dovesse cambiare le sue pratiche commerciali in risposta a questa causa? Ecco, abbiamo capito che la situazione è bella ingarbugliata. Potrebbe esplodere la bomba come potrebbe fermarsi lì. Cosa succederà? Bella domanda.